Buongiorno FtOnline, prosegue la fase positiva questa mattina per la borsa, Fuzzimib intorno ai 21.700 punti, siamo quindi saliti anche al di sopra dei massimi delle ultime due sedute che erano allineati intorno a area 21.680. Se i prezzi dovessero riuscire a confermarsi in chiusura di seduta anche su questi livelli sarebbe un segnale di forza, andremo a vedere tra poco quali potrebbero essere le prospettive. Situazione graficamente molto importante anche per quello che riguarda il Nasdaq 100, vedete l'indice compreso all'interno di questa figura di forma triangolare. I prezzi avevano cercato di forzare il lato alto di questo triangolo qualche giorno fa, erano rientrati all'interno della linea, poi anche inizio di questa settimana c'era stato il tentativo di rompere la linea di resistenza e è evidente che se oggi dovessimo riuscire a superarla, oggi passa intorno ai 12.050 punti, verrebbe confermata la rottura del lato alto di questo triangolo, l'ampiezza del triangolo è di circa 1.500 punti e quindi sarebbe possibile iniziare a guardare un target intorno in area a 13.500, è ovvio che invece fino a che la linea di tendenza ribassista non verrà superata c'è ancora il rischio che i prezzi tornino verso la base di questa fascia laterale. Cerchiamo a questo punto di andare a capire cosa sta succedendo sul Fuzzimib, per farlo però farò riferimento prima al CAC 40 che è un indice che guardo spesso dal momento che graficamente si comporta tra virgolette meglio rispetto al Fuzzimib, quindi faremo delle considerazioni sul CAC 40 per poi cercare di trasferirle sul nostro Fuzzimib. Fondamentalmente quello che volevo farvi vedere è che il movimento che abbiamo visto nelle ultime sedute ci ha portato in una situazione sul limite che se superato darebbe un'indicazione di forza molto rilevante ma che ancora è resistenza per quello che riguarda il movimento dei prezzi. Che cosa potrebbe essere questa struttura che abbiamo visto dai minimi di marzo? Secondo le onde di Elliot potremmo essere di fronte o a una correzione tipo ABC dove l'onda A potrebbe essere vista come questo rialzo che c'è stato dal minimo di marzo al massimo di inizio giugno, l'onda B potrebbe essere la successiva fase laterale sostanzialmente e quindi adesso saremo in una fase di onda C. le possibilità che abbiamo per l'onda C sono che sia o C può essere o della stessa ampiezza di A o può essere limitata rispetto alla ampiezza di A o può essere anche estesa. La limitazione o l'estensione sono in funzione di questi rapporti Fibonacci, quindi la onda C può essere 0,618 volte l'onda A o 1,618 volte l'onda A. Bene, se noi prendiamo l'ampiezza dell'onda A e la proiettiamo, quindi questa è l'ampiezza dell'onda A e la proiettiamo dal minimo dell'onda B, vedete che i massimi che sono stati raggiunti nelle ultime sedute coincidono praticamente con lo 0,618 di proiezione della onda A dal minimo di onda B. Quindi siamo su un potenziale target di onda C dove potrebbe essersi esaurito il movimento, se però i prezzi, vedete c'è anche il lato alto di questo canale che è possibile disegnare al minimo di marzo. Se però i prezzi dovessero salire al di sopra dei 5520 punti per poi chiudere oltre quei livelli vorrebbe dire che non siamo più nel caso di C che è ridotta rispetto all'onda A ma andremo nel primo caso che è quello di C uguale a il target di onda C, quindi si sposterebbe intorno ai 6100 punti che coincidono esattamente poi con i massimi di inizio anno. Prima di fare il secondo caso andiamo a trasferire queste cose che ci siamo detti sul Fuzimib quindi vorrebbe dire che il nostro Fuzimib ha vissuto una situazione di questo tipo se andiamo a prendere gli stessi riferimenti temporali che abbiamo visto per il CAC 40 e se andiamo a fare il calcolo anche in questo caso delle proiezioni, vedete questa è l'ampiezza dell'onda A la andiamo a proiettare dal minimo di quella che potrebbe essere l'onda B e anche in questo caso ci accorgiamo che i massimi che sono stati raggiunti nelle ultime due sedute coincidono con il 0,618 volte o il 61,8% di proiezione dell'onda A su onda C, quindi questa è l'ampiezza, è la nostra onda A, questa sarebbe la nostra onda C se i prezzi non dovessero schiodarsi da quest'area 21,5-21,6 ci sarebbe il rischio di dover considerare l'onda C già terminata viceversa se come sta accadendo questa mattina, poi vedremo cosa succede oggi in chiusura se i prezzi dovessero andare a terminare oltre area 21,5-21,6 e ripeto in questo momento sono oltre quei livelli il target per l'onda C si sposterebbe intorno ai 24.000 punti, questo ovviamente non vuol dire che la salita da 21,6 a 24.000 sarà necessariamente senza interruzioni, ovviamente una fase di correzione anche nell'ambito di un'onda di questo tipo è sempre possibile, come abbiamo detto negli ultimi giorni in questa fase terrei come riferimento la media esponenziale a 50 giorni che ovviamente ha già un'inclinazione positiva quindi cambierà di valore aumentandolo nelle prossime sedute perché quello potrebbe essere il livello di supporto verso il quale andrebbero a tendere i prezzi in caso dell'avvio di una fase correttiva nell'ambito però di un movimento che potrebbe essere destinato ad andare a prendere area 24.000 quindi la giornata di oggi sia per il K40 che per il Fuzzimib dovrebbe essere essenziale per capire quale potrebbe essere il destino dell'indice, quale potrebbe essere la seconda ipotesi che si può fare in termini di conta delle onde, potrebbe essere che questa fase non è correttiva ma è la ripartenza del trend rialzista di medio e lungo termine, vedete questa è la tendenza rialzista precedente rispetto alla quale il ribasso che abbiamo visto dai massimi di inizio anno ha ritracciato circa i 2 terzi, è rimasto al di sopra del 78,6%, è andato sotto il 61,8%, comunque diciamo che la fase ribassista vista nella prima parte dell'anno si può considerare come appunto una correzione del rialzo che c'era stato dai minimi del 2011, quindi nell'ipotesi che questa fase ribassista abbia terminato la correzione vorrebbe dire che adesso siamo già ripartiti con un movimento impulsivo e quindi possiamo fare un'ipotesi diversa ovvero sia che questa sia stata l'onda 1 perciò la ripartenza del movimento iniziale che la correzione successiva sia stata l'onda 2 per il momento non possiamo contare questa come onda 3 e questa come onda 5 per il semplice motivo che di solito, non sempre, ma di solito l'onda 3 è la più estesa e in ogni caso non è mai la più corta di tutta la sequenza, invece qui se andiamo a vedere il rapporto che c'è tra onda 1, l'ipotetica onda 3 e l'ipotetica onda 5 ci dice che onda 3 non sarebbe la più estesa, la più estesa sarebbe l'onda 1, quindi la cosa più probabile è che invece questa sia dopo l'onda 2 sia iniziata una onda 3 composta che è quello che accade normalmente, quindi questo sarebbe solo l'ora, scusatemi, la onda 1 di 3, questa oltre a essere l'onda, il punto di arrivo di onda B potrebbe essere anche la onda 2 di 3 e quindi adesso saremmo in onda 3 di 3. Se teniamo presente che l'onda 3 e l'onda 1 sono legate da un rapporto che è simile a quello che abbiamo visto per onde A e C, ma con l'onda 3 che di solito è o uguale all'onda 1 o estesa, prendiamo l'ampiezza di onda 1, la proiettiamo dal minimo dell'ipotetico e arrivo a un punto di partenza di onda 3 e vedete in questo caso la proiezione è questa, la coloriamo in blu per distinguere da quell'altra, in blu spesso e vedete il primo livello di target ipotetico anche in questo caso coincide esattamente con i massimi che abbiamo raggiunto. Si conferma il fatto quindi che questa potrebbe essere un'importante area di resistenza e si conferma il fatto che se questa area di resistenza venisse superata ci sarebbe la possibilità di salire verso la proiezione successiva che è onda 3 estesa 1,618 volte rispetto a onda 1 che è quello che accade normalmente e quindi ancora una volta vorrebbe dire che sopra questi livelli il CAC potrebbe tornare sui massimi di inizio anno. Cerchiamo di fare lo stesso esercizio anche con il Futsimib, quindi vorrebbe dire guardando il Futsimib che qui abbiamo avuto la nostra onda 1 della sequenza rialzista, questa sarebbe stata l'onda 2, qui avremmo la nostra onda 1 di 3 qui la onda 2 di 3 e pertanto quella attuale sarebbe la onda 3 di 3. Andiamo a prendere l'ampiezza della onda 1 di 3 che è questa la proiettiamo dal minimo della 2 e otteniamo un primo livello che potrebbe essere il possibile punto di arrivo per la onda 3. Vedete in questo caso la proiezione coincide praticamente esattamente con la proiezione che avevamo fatto prima, vi riprendo per farvelo vedere meglio, quindi tenete presente che questa è la proiezione precedente la proiezione attuale si sovrappone esattamente a quella che avevamo visto prima quindi che cosa ci dice questo? Che ancora una volta che se dovessero superare area 21,5 21,6 in chiusura di seduta il target si sposterebbe almeno sui 24.000 punti a conferma del fatto che la giornata di oggi, essendo tra l'altro anche un venerdì con alcune scadenze tecniche, è fondamentale per determinare l'andamento del mercato nelle prossime settimane. Rottura in chiusura di settimana e quindi anche di seduta dei massimi delle precedenti due giornate di mercoledì e giovedì sarebbe un segnale di forza che ci lascerebbe spazio per tornare verso i massimi di inizio anno e probabilmente in quel caso vi ricordo quanto ci siamo detti anche sul Nasdaq 100, quindi in quel caso sarebbe probabile la rottura del lato alto del triangolo con proseguimento della fase rialzista e invece in caso di mancata rottura da parte del lato alto del triangolo sul Nasdaq 100 e delle resistenze che abbiamo indicato su Futsimib e CAC potrebbe iniziare una fase di ripiegamento che potrebbe andare a interessare come abbiamo detto la media mobile a 50 giorni che in questo momento per il Futsimib passa a 19,8 e 20 circa. Rapidamente guardiamo alcuni titoli che oggi sono particolarmente interessanti, Banco BPM e Biperbanca e Unipol che sono legati in questa fase da una prospettiva di fusione, questa è la newsletter che trovate sul nostro sito internet FTA online, la ritrovate anche riprodotta qua sulla nostra pagina Facebook, l'ho caricata poco fa, quindi trovate le stesse indicazioni sulla pagina Facebook e vedete qui si spiega tutta la situazione che riguarda Banco BPM, Biper e ovviamente anche Unipol che di Biper è il primo azionista. Siamo a 1,94 circa con il titolo in questo momento, in termini di ritracciamenti Fibonacci dai massimi di inizio anno, questo vuol dire che siamo in vista del 61,8% di retracement, se il prezzo adesso salire anche oltre i 2 Euro diventerebbe molto probabile un allungo anche fino a 2,37-2,40 dove c'è il lato alto di quel gap ribassista. Siamo in prossimità della resistenza ai 2 Euro, quindi prudenza, c'è però da dire che i prezzi si sono già lasciati alle spalle il lato alto di questo canale rialzista e quindi un primo segnale che fa pensare che il superamento dei 2 Euro possa essere probabile, c'è, sappiamo che quando c'è la rottura del lato alto di un canale come questo si può calcolare un target che è dato dalla proiezione dell'ampiezza del canale dal punto di rottura, quindi il target intorno ai 2,20 Euro sembra perlomeno plausibile, pertanto diciamo che sempre con l'accortezza di aspettare prima di impegnarsi in maniera rilevante la rottura dei 2 Euro, però già sui prezzi attuali si può iniziare a scommettere sul raggiungimento almeno di 2,20. Su BiperBank abbiamo un quadro grafico diverso, i due grafici del resto se li mettiamo a confronto vediamo subito come questo di Biper se tracciamo una retta di regressione da marzo abbia un andamento decrescente, se tracciamo la stessa retta su Banco IPM invece la troviamo crescente, quindi è evidente che la tendenza di fondo è molto diversa, però anche su BiperBank potrebbe esserci la possibilità a questo punto di vedere un tentativo di invertire questa tendenza ribassista, sopra 1,48 ci sarebbe la possibilità di salire verso 1,71, sicuramente lo spazio c'è, è evidente che per quello che ci siamo detti nel diverso comportamento tra i due titoli forse dovendo scommettere su uno dei due vale la pena di farlo su Banco BPM, guardiamo anche la forza relativa che lega i due titoli, vedete è una forza relativa che negli ultimi mesi è sempre stata in favore di Banco BPM, il fatto che questo grafico scenda vuol dire che BiperBank ha costantemente sottoperformato Banco BPM, notiamo che c'è un tentativo di invertire questa tendenza, vediamo se almeno la media mobile a 20 giorni della forza relativa è stata superata, sarebbe un primo segnale, si è già stata superata, quindi si potrebbe iniziare magari a considerare due titoli uno alternativo all'altro, nonostante la storia di sottoperformance di BiperBank nei confronti BPM, ma le cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro, come ci dice questa sterzata che c'è stata sul grafico di forza relativa. Unipol è un titolo sicuramente interessante, c'è stata pochi giorni fa la rottura di questa resistenza, non ci sono ostacoli particolari almeno fino a che i prezzi non ritorneranno intorno ai 4,20 Euro, quindi direi che dai prezzi attuali c'è ancora un discreto spazio di crescita prima di dover eventualmente pensare ad uno stop del rialzo. Solo se dovessimo scendere nuovamente a di sotto di 3,75 ci sarebbe il rischio di dover riconsiderare lo scenario rialzista. Infine guardiamo Snowflake che è un titolo per il quale mi avete chiesto l'analisi, un titolo che ha una storia molto limitata, quindi in termini di analisi tecnica è difficile fare delle considerazioni che vadano oltre il brevissimo termine, ci sono stati però di recente dei segnali di forza come la rottura di questa linea di tendenza e in termini di ritracciamenti il rimbalzo che c'è stato da questo doppio minimo si sta scontrando per adesso con il 50% di ritracciamenti, quindi se i prezzi dovessero riuscire a salire in chiusura di seduta al di sopra di 2,66 ci sarebbe la possibilità di vedere proseguire questa fase rialzista, magari anche di vederla tornare sui massimi di ottobre a 300 dollari circa. Per il momento resta un rimbalzo correttivo ma si sta strutturando bene, soprattutto interessante il fatto che sia basato su un doppio minimo, quindi su una figura positiva che si forma di solito quando poi il mercato sviluppa dei movimenti importanti, quindi sicuramente su Snowflake si può iniziare a scommettere via via che il prezzo adesso superare le resistenze, quindi prima 2,66 poi alla 2,75 si può puntare sul raggiungimento dei 300 dollari. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona fine settimana, vi do appuntamento lunedì con il nostro consueto commento giornaliero.